Ciao ragazzi, calendario Trendy Top 11 dicembre Abbiamo un altro bellissimo ombretto di Natale Non c'è scritto il numero, però questo qua è quello oro Quindi abbiamo, nei giorni scorsi abbiamo trovato quello rosa Adesso abbiamo anche quello oro Guardate quanto è carino, molto carino questo Bello, bello A me tra l'altro mi piace anche molto l'oro a Natale Mi piace anche molto Mi sono divertita un bel po' di tempo fa Con una palettina di Natale Non mi ricordo adesso di chi era più Non me lo ricordo proprio E però era veramente bella quella palettina Perché c'era l'oro di Natale C'era il marrone, che vabbè, non ho mai usato E poi c'era anche l'ombretto rosso Ah, Diego della Palma, era Diego della Palma Adesso mi ricordo Ed era veramente spettacolare Uno dei pochi che ha messo l'ombretto rosso nelle palette Grazie Diego per quella fantastica palette Ciao a tutti ragazzi, alla prossima